Io in teoria sono la vecchia del gruppo, ma in mezzo a tutti questi giovani mi sento proprio vecchia, perché alla fine con parecchi di loro mi scontro durante l'anno, quindi le conosco benissimo, come se fossero mie coetanee, anzi io coetanee loro, che meglio. No, siamo di sicuro un gruppo molto coeso, un gruppo che ha voglia di lavorare e lo stiamo dimostrando, soprattutto chi ha iniziato il primo giorno di raggiungo con tanta voglia di lavorare e di sudare sul campo, di sudare durante gli allenamenti. Certo, la prima partita non è andata bene, o meglio, non è andata come speravamo, però ormai l'abbiamo dimenticata, perché adesso il nostro pensiero è solo alla prossima partita di mercoledì contro il Lussemburgo, in cui dovremo giocare al massimo per tutti i 40 minuti, cercare di mettere tanta pressione in difesa e in modo da poi giocare in contropiede, giocare in maniera più facile in attacco. Quello che posso dire di queste ragazze è che tutte quante hanno enorme talento, perché ognuno lo dimostrano nella propria società o lo ha dimostrato in passato con le varie nazionali giovanili. L'unica cosa che sto cercando io di imprimere a loro è il fatto di non adagiarsi sugli allori, perché fortunatamente sono giovani, sono tanto giovani, quindi hanno la possibilità di lavorare, di crescere, di migliorare ancora, però tra virgolette purtroppo per far questo bisogna lavorare tanto durante gli allenamenti e durante l'anno. Tutte hanno la forza per farlo, quindi vi faccio loro un grosso in bocca al lupo. Grazie.